Qual è il punto di forza dell'indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera? In realtà ci sono più punti a favore. Diciamo che l'alberghiero di grado rappresenta una risorsa formidabile per l'orientamento dei ragazzi nella comprensione delle proprie propensioni in ambito sala o cucina. Inoltre un altro punto è promuovere la passione di questi ragazzi proprio per l'enogastronomia in generale, questo mondo bellissimo. Insegna la disciplina ed aiuta proprio nel far soddisfare il ragazzo nello studio, nel lavoro che sta facendo proprio, quindi aiutarlo. Questo avviene anche tramite insegnamenti generali dei curriculum normali di studio oltre che l'apprendimento di tipo laboratoriale. Insomma proprio una formazione di persone competenti nel mondo dell'enogastronomia. Questo lavoro dà molteplici sbocchi professionali, quindi dopo il diploma si può andare o lavorare, c'è tantissima richiesta sia a livello di sala che di cucina oppure intraprendere un percorso universitario qualunque oppure anche corsi di perfezionamento nei vari settori di sala o di cucina.